ciao a tutti oggi volevo provare con voi il nuovo prodotto di tommy art la colla in colla innanzitutto partiamo dalla particolarità della colla che ha un cappuccio che permette di regolare il flusso della della fuoriuscita della colla e la sua chiusura evita l'otturazione del dell'ugello per cui avremo una colla diciamo sempre sempre asciutta inoltre io ho preparato alcuni materiali per poter sperimentare la colla ho una cassettina di legno quindi provo ad incollarla poi vorrei qua ci vuole un po più di tempo però magari lo faccio all'inizio di modo che nel frattempo che faccio il resto si possa asciugare vorrei realizzare un panetto con sei pezzi di carta in modo poi da unirli e fustellarli per vedere come come viene il panetto di carta poi vorrei provare a rendere impermeabile e malleabile questa sottilissima fustellata passandoci appunto della della colla inoltre vorrei provare diciamo questa è la prova del nove vorrei provare la colla sul vellum anche se vorrei provare solo con qualche puntina di colla perché sul vellum si sa insomma la colla non va di regola quindi iniziamo allora volevo iniziare prima come ho detto con questi due esperimenti che richiedono un po più di tempo allora per questi per questi esperimenti diciamo per queste prove ho utilizzato utilizzando un foglio di carta da forno come base per per evitare che mi si sporchi il piano di lavoro allora verso della colla sulla mia carta forno ci metto un bel po inizio a passare la colla sulla carta la colla non l'ho diluita sulla carta di modo che io possa sovrapporre gli altri pezzi e creare il paletto metto il secondo strato ora se la colla diciamo funziona va bene mi dovrebbe creare un paletto di carta abbastanza rigido che poi posso utilizzare come come decoro o addirittura come come se fosse un pezzettino di legno insomma abbastanza abbastanza resistente inoltre la colla mi dovrebbe rendere anche il panetto parzialmente impermeabile dico parzialmente perché dipende poi dalla dalla quantità di colla che che vorrò mettere sul sul mio panetto diciamo che la colla si stende bene a l'odore della della colla vinilica classica la consistenza è abbastanza densa ma non troppo da essere difficoltosa da stendere quindi è della densità giusta appunto che facilmente stendibile con un pennello infatti io ci sto mettendo ci sto mettendo un attimo in più noto che non fa le bolle non ci sono le bolle la carta non si sta imbarcando nonostante io abbia messo già i miei cinque pezzi e questo è l'ultimo adesso sposto il mio panetto di di carta ecco qui lo sposto della mia carta forno e ci metto un peso sopra in questo caso ho utilizzato la la sidekick dunque provo a fare così in modo che ok allora qui c'è bisogno di un tempo affinché si asciughi completamente anche una notte però a fine video vediamo vediamo un po il come si è asciugato e a che punto è il mio panetto di carta se si è imbarcato o se si è incurvato adesso invece rendiamo questa mini fustellata la rendiamo impermeabile la rendiamo impermeabile la rendiamo anche malleabile perché passandoci la colla mi dovrebbe il fiore mi dovrebbe ottenere una consistenza tale che io poi possa lavorare il fiore e dargli la forma che più desidero incurvata con dei petali più in alto insomma una forma 3d e in più me lo dovrebbe rinforzare allora io lo passo sia davanti che dietro il pennello poi ovviamente lo devo sciacquare e lascio riposare anche il la mia fustellata sulla carta forno di modo che non si incolli perché se fosse un cartoncino normale tenderebbe ad incollarsi ok adesso lasciamo asciugare la mia fustellata nel caso non si dovesse asciugare a fine video ne farò un altro dove si vedranno i risultati ecco io adesso sono un po di fretta e avrei dovuto fare prima l'altro lato e poi questo ok mettiamo un po di colla qui in modo che mi si però la colla diciamo che già è abbastanza asciutta vediamo se voglio vedere se inoltre mi diventa trasparente perché adesso ancora bianco il mio fiore voglio vedere se mi viene trasparente ok adesso passiamo al secondo al terzo esperimento tolgo via la mia carta forno e utilizzo la mia colla per riparare questa cassettina in legno che mi è stata regalata metto direttamente la colla sul pezzettino di legno qui e qui con quello che mi è avanzato del precedente lavoro spennello di modo che pulisco anche il pennello e lascio che la colla entri nei pori il mio pennello adesso lo devo mettere un attimo a bagno intanto incollo incollo e aspetto pulisco e aspetto il il tempo che ci vuole per fare in modo che che prenda un attimo perché ho sbagliato io ok si sentono ambulanze prima o poi termineranno non voglio sperare ok e questo il mio terzo esperimento ultimo esperimento voglio provare a realizzare una card con del bellum allora il bellum si sa il bellum non richiede la colla ma solo il biadesivo e possibilmente nascosto altrimenti si si vede però il mio obiettivo è questo allora vedere come si comporta la colla con la carta dunque io voglio in per l'esterno un flusso più sottile e quindi chiudo un po il il tappo ok l'erogatore ok invece per il centro magari voglio un po' di più quindi giro e infatti mi eroga più colla in teoria dovrei spalmarla però e sto facendo un esperimento allora prima di fare questo lavoro in realtà volevo tagliare il mio bellum e poi posizionarlo sulla card vediamo allora ok più o meno non ho fatto una grande furbata a mettere prima la colla ok va bene così un po lo voglio sì così ok questo è il mio bellum e adesso rimetto la colla qui dove c'era inizialmente questo è al massimo il flusso è al massimo adesso ok e posiziono la mia card adesso qui mi è uscita un po di colla vediamo se la colla poi sparirà adesso voglio mettere delle dei sentiment per cui ho bisogno di un flusso molto 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 leggero chiudo il mio ugello e lo apro poco poco e metto dei puntini di colla solo dove dove mi serve vediamo ecco qua il flusso è minimo io ho premuto tanto ma il flusso è minimo ok adesso riprovo richiudo pulisco l'ugello riapro poco poco ecco e vediamo adesso quanto me ne esce ecco adesso voglio solo dei puntini minuscoli riesco riesco a dosare la colla bene la colla la scritta il sentiment l'ho applicato e adesso vediamo un po vorrei metterci qualcosa per diciamo per dargli un po' di movimento alla card volevo mettere una puntina di colla dietro alla mia farfalla ok e adesso la prova del 9 metterla qui la colla sicuramente si vedrà però noi aspetteremo che si asciughi per capire se effettivamente l'effetto è così evidente oppure no ok ok allora questi sono i miei esperimenti adesso vediamo la situazione del panetto allora qui mannaggia va bene allora il panetto è morbido ancora però ho notato che non si è imbarcato per nulla non non ha fatto le bolle non ha fatto le curve e una cosa positiva non ha sporcato la carta perché solitamente quando si fanno questi lavori si sporca la carta il mio fiore fustellato è quasi pronto ma veramente manca pochissimo e lo posso già cominciare a a modellare scusatemi le mani ma ok lo posso già cominciare a modellare per renderlo diciamo tridimensionale però si deve ancora asciugare completamente inoltre la cassettina è pronta non si stacca direi che l'esame è stato superato per incolla grazie a tutti e spero che questo video vi sia stato utile ciao ciao